Musica Un branzino in crosta con delle erbe aromatiche e un gazpacho molto delicato con delle cipolline comodoni caramellati per addolcire la suocera. Noi abbiamo puntato sulla tradizione per conquistare la suocera, quindi un tris di moltini con sapori diversi utilizzando i prodotti fonti accompagnati da salvia fritta e una crema di patate. Sono già passati 17 minuti e c'è un imprevisto in più. Avete un ingrediente in più da usare obbligatoriamente, che è la grassa di aceto balsamico. La trovate nella dispensa. 10, 9, 3, 2, 1, stop al tempo. Voglio presentarvi Giacomo Ponti, che giudicherà con me i piatti. Mi piace la morbidezza del pesce e l'unica cosa sulla quale sono scettica è la crosta. Però l'abbinamento dei sapori è armonioso, direi. Qui l'errore è stato mettere una salvia fritta sopra, ovviamente, ad una porea morbida. Forse è un po' rammollita. Buoni tutti e tre. La squadra vincitrice di oggi è la squadra dei gialli. Ci è piaciuta molto l'idea di fare effettivamente una personalizzazione, sia per la suocera che per gli altri componenti. Abbiamo un premio per i vincitori, che è una bottiglia di aceto balsamico tradizionale di OP extravecchio. È invece il classico per i secondi classificati.